Questa sera avevo pensato di mettere un attimo tra parentesi il Vangelo di Matteo che noi stiamo seguendo in questi nostri incontri, perché come abbiamo sempre detto è l'anno dove a livello, come comunità, durante le celebrazioni, la liturgia della parola, ci presenta il Vangelo di Matteo. Metto un attimo tra parentesi per prendere in considerazione il messaggio che il Papa ha scritto a tutta la Chiesa. Voi sapete che generalmente il Papa ogni anno, in modo particolare in Quaresima, manda un messaggio a tutta la comunità ecclesiale. Quindi il Papa ci ha scritto una lettera. Sembrava poco rispettoso non prendere in considerazione ciò che lui ha scritto a ciascuno di noi. Sarebbe bello pure pensare di poter poi rispondere alla lettera del Papa. E questo ognuno poi lo potrebbe fare personalmente, provocato da quanto poi cercheremo adesso di dirci. E il Papa in questa sua lettera fa riferimento a un brano particolare che lo troviamo nel Vangelo di Luca. Adesso che vi dico il nome sicuramente già vi risulterà molto noto a vostro orecchio. Il Papa fa riferimento alla parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro. Quindi lui parte da quest'episodio e sviluppa un poco la sua lettera. Prima di commentare insieme un poco la lettera e vedere il testo tra le mani, leggiamo però il testo al quale il Papa fa riferimento. E cerchiamo di dire qualcosa su quel testo. Perché non capiamo ciò che poi l'ha scritto nella lettera. Perché lui nella lettera dà per scontato ciò che si è scritto lì nel testo. Luca capitolo 16 dal versetto 19 in poi. Vi prego di fare attenzione alle espressioni che qui troviamo in questa parabola. Io cercherò, se mi riesce, di sottolinearvi un po' con il timbro della voce. Luca capitolo 16 dal versetto 19. C'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpore e di lino finissimo e ogni giorno si dava all'auto i banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi tra i tormenti, azzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse, padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose, figlio ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i tuoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò, allora padre ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre perché ho cinque fratelli, li ammonisca severamente perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose, hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò, no padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Ricordo una volta mentre ascolteremo questo brano, anche durante i giorni feriali, mentre stavo proclamando questo brano durante la celebrazione eucaristica, quando dice morì e poi dice Lazzaro, dice tra noi non è più possibile, c'era una vecchietta in un banco e disse ma gli è, ben gli sta, proprio durante la messa proprio. Questo mi fece capire che la signora era partecipe, cioè si sentiva coinvolta mentre stavo proclamando il Vangelo. Perché il rischio, sapete qual è? Come disse anche il ritiro, che quando noi una cosa la sappiamo bene, la diamo per scontata e non prestiamo più attenzione. Perché tanto già sappiamo che cosa vuole dire. Vedete, qui se vogliamo trarre una conclusione molto banale, sapete qual è? Che finalmente il paradiso mette le cose a posto. Quindi se qui hai goduto ti la soffri, se qui hai sofferto ti la godi. Non è così. Perché altrimenti pensi che la maggior parte di noi sarebbe inguaiata. Non è così. Qui sta dicendo qualcosa di molto più importante. E stranamente qui non sta neanche dicendo com'è il paradiso o il fuoco che c'è all'inferno. Qui sta dicendo attenzione a come vivi la tua storia presente. Questa parabola è un richiamo sul momento presente. perché l'al di là si decide nell'al di qua. È l'al di qua che diventa poi al di là. È quello che io vivo qui che poi un giorno si eternerizzerà. Scusatemi questo tema, non ho detto neanche giusto. Quindi se qui ho fatto il bene, sarà il bene. E la mia scelta è il bene. Se qui ho fatto il male, la mia scelta eterna sarà il male. Ma capite? Non perché qui c'è qualcuno che sta giudicando. Quello che giudica sono le mie stesse azioni. Sono io stesso che mi giudico. Perché quando andremo in paradiso non è che il Signore si mette là come sto in questo momento. No, dietro alla scrivania. Vediamo, tu hai fatto questo, questo e questo. Allora ok, allora vieni in paradiso oppure vai all'inferno. Saremmo noi stessi, in base a quello che noi avremmo fatto, che andremo al posto, che noi avremmo scelto. Come stiamo ascoltando in questi giorni di cuoressima, in una malettura, il Signore dice io pongo dinanzi a te la tua strada, il bene e il male, però sei tu che poi devi scegliere il bene e il male. Facciamo attenzione, non c'è una strada neutrale. Non c'è una strada di mezzo. Il cristiano non si mantiene lì al centro, tra il bene e il male. Il cristiano o sceglie il bene o sceglie il male. Perché dice il libro dell'Apocalisse tu sei tiepido e i tiepidi sto per vomitarli dalla mia bocca. È una frase terribile. Quindi facciamo attenzione. E poi c'è un'altra realtà qui importante in questo brano che noi forse abbiamo dimenticato. La vita eterna. Chi di noi pensa più alla vita eterna? Nelle scelte quotidiane, quale scelte noi le facciamo pensando alla vita eterna? Pensiamo concretamente questa mattina quando siamo svegliati. Permettetemi la banalità, anche a quello che oggi abbiamo cucinato e abbiamo mangiato. A un programma televisivo che abbiamo visto. Era motivato anche dalla vita eterna. Ci siamo detti oggi io sono fatto per la vita eterna. Quindi questa mia scelta deve essere ecco quel seme che poi deve germogliare vita eterna. Perché poi vedete arriva sempre quel momento no? Pensatevi pensate poi quando eravamo ragazzi eravamo studenti ah se avessi studiato un pochino in più sempre dopo però poi succede quella cosa ah sempre arriva sempre proprio giusto l'attimo dopo che ci rendiamo conto. Però è così vedete perché arriverà un momento quello limite dove non possiamo fare più niente. Cioè oggi noi possiamo fare ancora tutto. Oggi quella misericordia che abbiamo parlato due anni fa l'anno scorso e abbiamo parlato questa volta ritiro è tutta possibile. Non è che non è vero allora che ci sia il perdono ci sia il condono. No, c'è il perdono e la misericordia. Ma adesso ricordate come abbiamo pensato la Quaresima ora è il momento favorevole ora è il tempo della confessione non domani. Sapete perché non è domani? Perché non lo sappiamo se domani ci arriveremo. E il giudizio è adesso. Un giudizio fasciato di misericordia quello sì ma se accogliamo questa misericordia vedete i santi oppure generalmente negli ordini monastici o quello che facevamo noi una volta che adesso l'abbiamo dimenticato prima prima di andare a letto c'era una cosa che si faceva l'esame di coscienza. Chi di noi fa ancora adesso l'esame di coscienza? Perché l'esame di coscienza è proprio questo rendermi conto di questa vita eterna alla quale forse oggi non ho messo nessun seme. Allora che faccio? Io ti perdono. Voi lo sapete no? La sera è segno di che cosa? È segno della morte la sera perché ci addomentiamo e non sappiamo quello che succede. Allora quindi perlomeno nel pensiero chiediamo perdono al Signore come lo ringraziamo anche per il bene che abbiamo potuto compiere e però evidenziamo quel bene che avremmo potuto fare e che non abbiamo fatto che diventa poi il proposito per domani. Però voi capite bisogna trovare questo momento per farlo sarebbe una bella cosa spero che adesso non vi butto la zappa sui piedi che la comunità un bel cammino di scoperta di cosa sia la preghiera. L'anno scorso due anni fa abbiamo parlato dell'equalistia della celebrazione equalistica della parola bello se vi proiettate adesso la preghiera come programma pastorale e io pregherò da casa per il vostro cammino allora quindi c'è questa realtà qui vedete poi lo vedremo con il pava adesso cerco di fare un po' un'introduzione ci sono questi due personaggi e subito c'è il ricco e c'è questo povero però attenzione perché è una cosa particolare il pava dopo lui lo dice il ricco non ha nome il povero ha un nome il ricco però non è che non abbia un nome il ricco viene identificato avete sentito viene identificato in base ai vestiti e in base a quello che mangia ha perso il suo nome talmente mangiava e talmente che vestiva bene infatti c'è caso poi non è qualche volta ah guarda quello come veste bene cioè non diciamo più come si chiama oh guarda Michele guarda quello come veste bene e molte volte voi se indossate i vestiti di marca il Louis Vuitton Gucci così noi addirittura lo chiamiamo col nome del vestito che sta indossando non ha più nome e noi lo sappiamo il nome l'abbiamo detto vi ricordate quando leggemo la lunga genealogia i nomi indica tutta una storia è come se questo ricco non avesse più una storia perché ha perso qualcosa di importante sapete cosa ha perso la relazione perché questo ricco vede una sola cosa la sua pancia banchettava lautamente ogni giorno ha detto il testo è Gesù che sta raccontando è questa parabola invece dall'altro c'è questo povero Lazzaro che ha un nome ben preciso sapete la cosa bella qual è? sapete il nome Lazzaro cosa significa? Dio aiuta certo potremmo dire noi l'aiutato io ho bene però c'è qualcosa in questo fatto che Dio aiuta e avete visto come Lazzaro viene descritto ci sono proprio questi particolari sta alla porta di questo ricco anzi ai piedi della tavola brammosa del testo di sfamarsi a meno con le briciole ora oggi ho visto per prepararmi un commento interessante che dice non sono le briciole come le intendiamo noi il testo vuole intendere una sorta di focaccia che si usava dopo che tu avevi mangiato cosa la prendevi con le mani con questa focaccia quasi tu ti lavavi le mani te le asciugavi e buttavi questa focaccia sotto la tavola quindi diremmo noi il panno sporco quindi lui avrebbe voluto almeno dice almeno questa cosa sporca avrebbe ma neanche quello cioè non ambiva neanche le molliche del panno ancora buono che tu spezzi il panno e può cadere dalla tavola come succede a tavola nostra no cioè quella cosa che venero io buttata neanche quella cosa buttata gli aveva dato e poi c'è questa realtà bellissima dice i cani andavano a leccare le sue piaghe è bella questa scena provate a immaginarla noi lo sappiamo i cani come sono affettuosi questa non dice questo cane di chi è sei del ricco o un cane che sta là fuori è il cane suo non lo sappiamo e voi lo sapete no il cane quando vuole dare un bacino lecca è il modo attraverso il quale questo cane manifesta affetto nei confronti di questo povero Lazzaro e voi lo sapete che nel nostro linguaggio Lazzaro indica una persona disgraziata è un povero Lazzaro vi prego lo sottolineo di nuovo è Gesù che sta usando questa immagine anche di questi cani che vanno a leccare le sue piaghe quanta delicatezza che Gesù sta usando nei confronti di questa persona lì dove non arrivano gli uomini poi arriva il momento della morte per l'uno e per l'altro qui vede dice morì il povero morì e fu portato agli angeli accanto ad Abramo sapete no Abramo è il padre padre della fede così non lo troviamo libro della lettera degli ebrei così dice Abramo nostro padre nella fede e poi dall'altro dice Abramo quindi fu portato Nesseno Lazzaro Nesseno di Abramo poi dice morì anche ricco e fu sepolto proviamo a immaginarci no la sepoltura del ricco quindi avrà avuto un bel monumento quindi sepolto il ricco di Abramo dice così morì e fu portato Nesseno poi di Abramo vabbè poi dice quello che succede di là c'è questa realtà qui vedete stranamente adesso il ricco alzando gli occhi si rende conto e vede Abramo e Lazzaro accanto a lui allora Lazzaro lo conosceva fingeva di non vederlo e ancora di più vedete riconosce Abramo come padre perché dice padre Abramo quindi lui si riconosce lo dice il Papa appartenente al popolo di Israele quindi si riconosce una realtà a livello di fede ma doveva riconoscersi prima non adesso quando poteva fare qualcosa e attenzione perché sembra che stia chiedendo una cosa bene per i fratelli dice manda qualcuno dai miei fratelli non vengono loro anche qui quindi quasi li vuole preservare i fratelli e c'è questa risposta particolare ci illumina il Papa su questa risposta particolare che da hanno Mosè e i profeti ma c'è questo gesto che lui chiede io ricordo quando ero bambino alle scuole elementari veniva una suora e ci faceva un po' così di catechismo questa suora e lei ricorda diceva così quando è a casa provate a mettere il dito in un bicchiere provate a vedere quante gocce d'acqua scendono io vi chiedo anche a voi tornando a casa provate a mettere il dito nell'acqua provate a vedere quante gocce perché lui dice manda Lazzaro a intingere il dito nell'acqua e a vedere quante gocce scendono però la cosa bella sapete qual è che questo po' questo ricco chiede per sé ciò che lui avrebbe dovuto fare a Lazzaro cioè questi gesti di attenzione a Lazzaro adesso lui li chiede per sé questa è la situazione in questa situazione il Papa adesso ci fa questa consegna che adesso leggiamo e cerchiamo di commentare insieme cari fratelli e sorelle la quaresima è un nuovo inizio una strada che conduce verso la meta sicura la Pasqua di Resurrezione la vittoria di Cristo sulla morte bene subito il Papa ci ha messo davanti la realtà qual è la quaresima è un nuovo inizio è bellissimo per un credente sapere che c'è un nuovo inizio è bellissimo sapere che per noi domani mattina sarà un nuovo inizio è bello sapere che qualcosa che inizia vuol dire che è tutto nuovo la nostra vita è nuova perché adesione a Cristo che fa nuove tutte le cose noi non siamo vecchi possiamo essere vecchi negli anni possiamo trovarci avanti negli anni ma il cuore è chiamato a farsi nuovo tutti i giorni ricordate l'abbiamo detto anche a ritiro altre volte la frase di Ohara domani sarà un nuovo giorno è così per il credente veramente è così non è una frase di un film è la realtà è la verità perché domani è un nuovo giorno e se è un nuovo giorno io sono chiamato a vivere la novità della mia vita domani in questo nuovo giorno quindi dice il Papa la Quaresima è un nuovo inizio provate a pensare quando noi abbiamo fino adesso abbiamo pensato la Quaresima tempo di penitenza tempo di conversione tempo dove non mangia la carne mettiamo la cenere in testa il colore viola che porta pure sfortuna invece il Papa parla di un nuovo inizio sto parlando di una novità di qualcosa di bello e qual è in cosa risiede questa novità che la Quaresima ci conduce verso una meta sicura che è la Pasqua di Cristo quindi davanti a noi in questi 40 giorni che cosa c'è? c'è la Pasqua noi siamo in cammino verso la Pasqua non stiamo in cammino verso la penitenza stiamo in cammino verso la Pasqua e la Pasqua che cos'è? è la vittoria di Cristo la Pasqua non è la sconfitta di Cristo è che Cristo risorge vincitore annientando la morte e quindi il peccato e noi siamo in cammino non in questi 40 giorni la nostra vita è questo cammino perché Cristo ha vinto e se Lui ha vinto noi siamo già vincitori si realizzerà per noi ecco verso cosa siamo in cammino noi siamo in cammino verso la partecipazione piena di questa vittoria la vittoria sta lì ci è anticipata nei segni sacramentali arriverà solo il momento in cui parteciperemo attraverso la trasformazione della nostra vita a questa vittoria e in questo siamo in cammino ora ogni giorno in questa novità di vita andiamo verso che cosa? verso la Pasqua di Cristo dirà San Paolo mentre il nostro uomo esteriore si va disfacendo di giorno in giorno quello interiore si rinnova di giorno in giorno questa è una legge quello esteriore ogni giorno che avanza si va più vecchio e quindi va verso la distruzione quell'interiore si rinnova perché più conosce Gesù Cristo più si assimila a Gesù Cristo più vive della grazia di Cristo quindi questo nuovo inizio di questo cammino quaresimale per ricordarci che la meta davanti ai nostri occhi è la Pasqua di Cristo la Pasqua di Resurrezione che è la vittoria di Cristo sulla morte quindi professiamo la fede così che cos'è la Pasqua non la morte di Cristo la morte e resurrezione questo è il mistero pasquale morte e resurrezione ascensione e il dono dello spirito sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione il cristiano è chiamato a tornare a Dio con tutto il cuore per non accontentarsi di una vita mediocre ma crescere nell'amicizia con il Signore quindi allora il fatto della conversione come abbiamo anche visto vi ricordate proprio con il Vangelo di Matteo proprio questo perché il rischio sapete qual è? che noi possiamo accontentarci di una vita di una vita mediocre vabbè non fa niente a scuola no che hai preso 5 vabbè non fa niente accontentiamoci del 5 no io non mi devo accontrare della mediocrità io devo puntare all'ottimo perlomeno come desiderio quello che mi deve ispirare perlomeno deve essere questo lascia che poi avendo fatto tutto il mio possibile mi sono trovato alla sufficienza però ho fatto tutto il mio possibile noi invece che già parto con la sufficienza o la mediocrità è la vita cristiana molto volte noi partiamo con la mediocrità quando non facciamo quelle scelte giuste che dovremmo fare quando non siamo animati da quel desiderio della vita eterna quando ci manca un riferimento dell'altro come adesso il Papa ci dirà Enrico Evolone e il povero Lazzaro quindi non accontentiamoci la vita mediocre allora per non accontarci la vita mediocre ecco questo il forte invito che ci rivolge la Quaresima la conversione per tornare a Dio con tutto il cuore perché convertirsi a livello proprio etimologico significa fare retromarcia tornare indietro conversione a U ti dice la morale quindi cioè io devo tornare indietro proprio a livello etimologico quindi tornare a Dio con tutto il cuore perché evidentemente il mio cuore durante questo cammino ha preso un'altra strada e proviamo a chiederci nel nostro cuore chi l'ha abitato al ricco lì c'erano i vestiti e il cibo il nostro cuore da chi è abitato che cosa c'è dentro il nostro cuore che lo abita qui ci viene detto la Quaresima allora ci invita a ritornare a Dio ma con tutto il cuore perché sapete il rischio qual è che io posso tornare a Dio con il corpo ma non con il cuore posso tornare a Dio con i gesti ma non con il cuore pensiamo alla domenica nella domenica andiamo a messa con il corpo o con il cuore con la presenza dello spirito che è fatto che sto lì oppure quante volte abbiamo detto no mi trovo lì ma con la testa sono tutta un'altra parte allora con tutto il cuore con tutto mi stesso amerai il Signore di Dio con tutto il cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze e il prossimo tuo come te stesso non una parte sì e una parte no Gesù è l'amico fedele che non ci abbandona mai perché anche quando pecchiamo attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e con questa attesa manifesta la sua volontà del perdono allora che cos'è l'attesa che il Signore ha i suoi nostri confronti è la sua voglia di perdonare e Lui ha voglia di perdonare ha detto tu lo vi ricordate abbiamo visto quella di far festa e noi siamo il motivo di questa festa e siccome Dio è il nostro amico e non ci abbandona mai qualche volta siamo noi da abbandonare vedete noi qualche volta abbiamo ragionato abbiamo detto così che cos'è il peccato il peccato è quella situazione dove allontana Dio dalla nostra vita ma siamo sicuri che è così in base alla parola che abbiamo visto abbiamo detto che non è così il peccato che cos'è sono io che mi allontano da Lui sono io che distolgo lo sguardo da Lui questo è il peccato è come quando qualcosa noi quando proviamo vergogna passiamo lo sguardo non guardiamo in faccia la persona verso la quale abbiamo sbagliato però la persona continua a guardarmi Dio continua a guardarmi non con occhi di giudice o di chi condanna ma con occhi proprio di chi attende per manifestare il suo perdono quindi non è Lui che si allontano sono io che mi allontano abbasso lo sguardo è Lui è l'amico fedele che non ci abbandona mai la quaresima è il momento allora favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la chiesa ci offre il digiuno la preghiera e le le mosse quindi vuol dire che il Papa sta dicendo una cosa attenzione intensificare la vita dello spirito che non significa una vita aleatoria quella dello spirito la vita dello spirito quindi lo spirito è quella realtà che sta poi dentro perché adesso il Papa lo dice subito dopo perché è lo spirito che poi una volta che ti fa comprendere interiormente poi devi agire esteriormente perché ricordate quando parlammo due anni fa lo spirito incarnato tutto quello che ho dentro poi lo manifesto anche esteriormente quindi se interiormente io capisco di questo ritorno a Dio e anche esteriormente poi questo ritorno a Dio lo devo vivere e lo vivono in una dimensione particolare che è Lazzaro nei confronti dell'altro quindi è l'omento farore per intensificare la vita dello spirito quindi lo spirito deve essere intensificato quali sono i mezzi che la Chiesa ci offre attenzione i mezzi non il fine il digiuno la preghiera e l'emosina sono dei mezzi che ci aiutano a intensificare la vita dello spirito non sono i fini della nostra vita ci vuol dire che io il digiuno non faccio il digiuno fine al digiuno fine a se stesso non prego fine a se stessa non faccio un po' di lemosina fine a se stessa ma sono dei mezzi la preghiera l'elemosina di digiuno che intensificano di più la mia vita spiritualmente e poi si manifesta esternamente qui sono dei mezzi però alla base di tutto c'è la parola di Dio che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggior assività il Papa guarda l'attenzione alla fine torna su questo proprio sulla parola di Dio perché il problema del ricco è proprio questo la parola di Dio che è sparita dal suo orizzonte e se sparisce la parola di Dio dal tuo orizzonte sparisce anche in lato dal tuo orizzonte e sparisce anche proprio dal orizzonte se scompare la parola di Dio l'abbiamo detto anche a ritiro se vi ricordate dobbiamo farcela questa domanda ma farcela seriamente che posto occupa la parola di Dio nella mia vita quotidianamente che posto occupa se fino ad adesso è stato marginale in questo tempo di Quaresima diventi un po' più centrale una volta si invitava anche soprattutto in Quaresima in casa mettiamola a prova più visibile meno in Quaresima qualcuno so che addirittura la metteva all'ingresso di modo che entrando e uscendo la teniva davanti agli occhi però se la metto come un ornamento non serve a niente siamo punti da capo capite? il Papa Domenica ha detto una cosa bellissima all'Angelus parlando proprio del Vangelo se avete modo di se non avete modo di ascoltarlo su internet lo trovate ha detto così come sarebbe bello se noi usassimo la parola di Dio così come usiamo il cellulare e ha usato un'immagine ha detto quanti di noi quando escono senza cellulare non tornano subito indietro a riprenderlo sarà successo pure a lui forse e fateci caso quante volte quando noi abbiamo il cellulare pure se l'abbiamo in tasca continuamente lo prendiamo fa per riservare un messaggio pure se sappiamo che è acceso non l'ho sentito mi sono distante quindi vado lì e vado a controllare pure adesso definiremo l'incontro andendola fuori vediamo il cellulare e diceva il Papa se facessimo così con il Vangelo avendolo in tasca ogni due e tre lo prenderemmo anche una parola immaginatevi non una frase una parola un capitolo lasciamo stare il capitolo una pericope una frase una parola perché è la parola di Gesù è la sua parola noi lo sappiamo con i messaggi i giovani usano proprio le abbrevazioni adesso subito si capisce grazie grz è qui una sola parola e quindi capisci tutto è una parola di Gesù va benissimo però vedete che bell'immagine è stata il Papa se trattassimo la parola di Dio così come trattassimo il cellulare quindi dice il Papa alla base c'è la parola di Dio che in questo tempo siamo unitati ad ascoltare e meditare e cominciamo a sfidare attenzione a queste folle che dice il Papa lo dice manca a ritiro se vi ricordate siamo unitati ad ascoltare e meditare non a leggere non si legge la parola di Dio si ascolta perché è la parola vivente di Dio che ci parla quindi si ascolta e meditare e sapete cosa è necessario per ascoltare e meditare ci vuole tempo non posso ascoltare e meditare se ho fretta non posso ascoltare e meditare se devo andare a fare un servizio perché sapete lo dicono i messi dello spirito se devo andare a fare un servizio e a preoccupazione del servizio che devo fare come sempre lì ma tra 5 minuti devo andare tra 2 minuti devo andare non sarò preso e concentrato a fare questo ho bisogno di tempo proviamo a pensare se lo facessi alle 5 e mezzo del mattino è quaresima tempo di penitenza di conversione mezzi per aiutare il mio spirito e se alle 7 e mezzo devo uscire loro se lo faccia alle 6 in particolare qui vorrei soffermarmi sulla parabola dell'uomo ricco e del povero e l'azzaro lasciamoci ispirare da questa pagina così significativa che ci offre la chiave per comprendere come agire per raggiungere la vera felicità e la vita eterna esortandoci ad una sincera conversione qui intenzione comprendere come agire quindi capisco per agire e non capisco per capire ah ho capito va bene si d'accordo hai capito e ora vedi quello che devi fare ogni volta che io ascolto la parola di Dio da lì viene sempre poi un impegno allora capisco come agire però devo anche agire se mi viene detto che la strada qui è interrotta qua fuori io non devo andare in quella strada che si è interrotta però se poi piglio e ci vado e se cado e mi faccio male perché ma piglia ti è stato detto di non andarci perché puoi avere un incidente però tu ci vuoi andare lo stesso allora hai capito che non ci devi andare però non hai agito di conseguenza e noi non poche volte così ci comportiamo capiamo ma non agiamo di conseguenza invece questa pace dice il Papa ci viene data e lo spunto ci dà la chiave per comprendere e per agire come raggiungere la vera felicità e la vita eterna esortandoci ad una sincera conversione quindi questa pace ci fa comprendere per agire e ci invita ad una sincera conversione la parabola comincia presentando due personaggi principali ma il povero che viene descritto in maniera più dettagliata egli si trova in una condizione disperata e non alla forza di risollevarsi giace alla porta del ricco e mangia le briciole che cadono dalla sua tavola a piaghe in tutto il corpo i cani vengono a leccarle il quadro dunque cupo e l'uomo degradato e umiliato a me piace questa immagine quando dice così si trova in una condizione disperata e non ha la forza di risollevarsi e così ha gli stenti che non riesce neanche a mettersi in piedi il quadro è cupo è l'uomo degradato e umiliato c'è il Lazzaro esiste è una persona concreta pensiamo ai Lazzari che conosciamo pensiamo ai Lazzari che vediamo in televisione pensiamo ai Lazzari fuori alle nostre chiese pensiamo ai Lazzari dentro le nostre chiese pensiamo ai Lazzari nelle nostre famiglie non pensiamo alla nostra tavola non guardandoli sono fastidiosi Lazzari però qua il Papa dice che sono un dono la scena risulta ancora più drammatica se si considera che il povero si chiama Lazzaro un nome carico di promesse che alla lettera significa Dio aiuta perciò questo personaggio non è anonimo ha tratti ben precisi e si presenta come un individuo a cui associare una storia personale quindi c'è una storia e possiamo associare quindi questo nome a una persona mentre per il ricco egli è come invisibile per noi diventa noto e quasi familiare diventa un volto quindi il ricco per il ricco Lazzaro è invisibile per noi invece ha un volto è come tale un dono una ricchezza inestimabile un essere voluto amato ricordato da Dio anche se la sua concreta condizione è quella di un rifiuto umano quindi è un dono e il dono è una ricchezza un essere voluto amato ricordato da Dio anche se la concreta condizione è quella di un rifiuto umano Lazzaro ci insegna che l'altro è un dono attenzione a questa frase adesso la giusta relazione con le persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il valore la giusta relazione io per comprendere veramente e vivere una relazione giusta con l'altro devo capire che l'altro è un valore e lo devo accogliere come una gratitudine l'altro è una grazia diceva Sartre gli altri sono l'inferno e quindi siamo proprio all'opposto mamma mia chi lo muovi vedi chi sta venendo l'altro è una grazia perché è un dono ha un valore inestimabile e io con l'altro potrò usare una relazione giusta e corretta solo se lo coglierò così invece fateci caso noi gli altri li usiamo quello mi serve per una raccomandazione quello perché mi può fare quel servizio quello perché può aiutarmi in quell'altra condizione quello perché conosce l'altro quindi noi valutiamo gli altri in base ai piacere che mi possono fare non per il valore che sono in sé per sé riconoscere con gratitudine il valore della con gratitudine rendendo grazie anche il povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro ma un appello a convertirsi a cambiare vita perché qui questo ricco avrebbe potuto dire ma fammi capire vuoi vedere che questo sta dicendo qualcosa alla mia vita e che forse io ho perso il senso se l'avessi visto colto come un dono quella persona lì chiunque sia che io incontro in mezzo alla strada vuoi vedere che mi sta chiedendo qualcosa ma non perché mi sta chiedendo l'emosina perché mi sta provocando a qualcosa che forse io ho smarrito nella mia vita mi sta richiamando a qualcosa di essenziale il povero per il ricco era un appello a convertirsi a cambiare vita ma non l'ha colto questo appello non l'ha colto e il primo invito che ci fa questa parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore all'altro perché ogni persona è un dono sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto allora il Papa quasi come se adesso ci facessi fare dei passaggi non dice il primo passaggio qual è? perlomeno aprire la porta del cuore all'altro perlomeno la porta del cuore per poi arrivare alla porta di casa però dice almeno la porta del cuore quindi non l'indifferenza l'anno scorso il Papa invece ci parlava proprio dell'indifferenza sapete la cosa più terribile qual è? l'indifferenza mi sei indifferente allora aprire la porta del cuore all'altro e attenzione però dice sia il nostro vicino quindi quello che sta a casa Ernesto in questo momento è il mio vicino sia il povero sconosciuto aprire la porta del cuore io non so se già l'ho detto a voi a qualche parte l'ho detto questa cosa la cosa terribile sapete qual è? generalmente così avviene a casa quando noi pranziamo io pranzo all'una a casa quindi al momento in cui vedete il giornale quindi mentre mangio vedete il giornale quindi quelle belle notizie belle che noi sappiamo io le guardo mentre sto mangiando e quando poi certe scene sono del barcone che hanno affragato io continuo a mangiare tranquillamente capite la cosa terribile? mi devo chiedere ho aperto il cuore o non ho aperto il cuore se mentre sto mangiando mi inizia a dire vedete io ho un fratello a Milano vedete che tuo fratello a Milano così e così io continuerei a mangiare l'altro è una provocazione è l'appello e allora l'altro o è o non è allora se la televisione ha questo vantaggio i mass media siamo il mondo così a portata di click se è questo così mi deve provocare mi deve dire qualcosa se dice loro non mangio più no non è che non mangio più potrei anche a limite mangiare in un momento diverso rispetto a quando vedo le notizie in televisione e lasciami coinvolgere poi le notizie per la mina per il cuore è vero per quello che succede a Lampedusa forse non posso fare niente però siccome sotto casa mia c'è la Caritas forse per lì niente però sotto casa mia cosa lo posso fare o a casa mia perciò ho detto sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto la Quarissima è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo quindi adesso c'è qualcosa in più che ci fare il Papa l'altro è Cristo riconoscere in lei o in lui il volto di Cristo quello che avete fatto all'altro l'avete fatto a me ognuno di noi ne incontra sul proprio cammino quanti ne incontriamo vedete che pure qui a Casandino c'è una buona comunità di ingradi ci sta proprio da qua dietro e di là quindi ne incontriamo una volta sotto la metropolitana a Parigi vidi un manifesto grandissimo era proprio grande c'era un bambino così africano malnutrito chiaramente e stava scritto così un giorno non potrei dire non sapevo non possiamo dire non sapevo ogni vita che ci viene incontro è un dono è merito accoglienza rispetto e amore ogni vita qui dice ogni vita non solo di chi è bravo di chi è pulito di chi è educato anche di chi è fastidioso e qui Don Ernesto potrebbe dire molto più di me anche molto più rispetto a questo passaggio qui del Papa dell'esperienza che ha fatto alla Caritas Nostro dove ci sa San Vincenzo si racconta che San Vincenzo dei Paoli il padre della carità in parrocchia c'è? sì io porto nel cuore l'esperienza vincenziana quindi mi sento molto legato a San Vincenzo si racconta che nel film dice che è proprio l'ultimo giorno prima della sua morte nel film però gli stori i biografi dicono che mentre stava alla fine della sua vita non riusciva neanche più a scendere perché era avanti negli anni con gli acciacchi con le gambe non poteva muoversi mandò a chiamare l'ultima figlia della carità la giovane che era arrivata le figlie della carità sono quelle che una volta portavano il cappellone con la cornetta con le ali che pensate nel mondo sono le prime per diffusione ancora oggi sono le prime nel mondo come numero e mandò a chiamare la giovane novizia che era arrivata e San Vincenzo dà le indicazioni a questa giovane novizia sulla carità e dice vedi Giovanna tu andai dai poveri e i poveri saranno rozzi puzzolenti ripugnanti e tu porterai loro la marmitta la padella con il brodo con la minestra dentro ricordati di amarli solo perché sarà solo per il tuo amore che loro ti perdoneranno il pane che tu darai loro ti perdoneranno per il pane che tu darai loro no 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 era Giovanna novizia era una novizia non era Giovanna di Dure Giovanna di Dure è molto dopo del 1800 San Vincenzo 1600 noi quando facciamo la carità pensiamo di fare ti faccio un poco di carità forse dovremmo imparare pure a chiedere perdono quando facciamo la carità in modo così ho letto la volta scorsa un passaggio una cosa che mi ha colpito c'era questo racconta lui un po' con la sua storia dice che vede un uomo lì che stava chiedendo l'emosina lui si avvicina voleva dare qualcosa si frugla nelle tasche e non trova niente non ha niente neanche una monina potergli la dare dice fratello non ho niente risponde il povero che importa anche questa è carità ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza rispetto e amore ogni vita la parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per raccogliere la vita e amarla soprattutto quando è debole ma per poter far questo è necessario prendere sul serio anche quanto il Vangelo ci rivela a proposito dell'uomo ricco quindi la parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi vedete la parola di Dio perché altrimenti se mi fermo a livello umano a livello sociologico così poi a un certo punto basta invece la parola di Dio è quella che mi invita ad aprire gli occhi su questa realtà di vita come un dono e quindi che va accolta anche quanto è debole anche quanto è malata anche quanto gli atti direbbero la togliamo di mezzo ora per capire meglio questo è necessario prendere sul serio anche quanto il Vangelo ci dice circa l'uomo ricco la parabola è impietosa nell'evidenziare le contraddizioni in cui si trova il ricco questo personaggio al contrario del povero Lazzaro non ha un nome è qualificato solo come ricco la sua opulenza si manifesta negli abiti che indossa di un lusso esagerato la porpora infatti era molto pregiata più della ragione dell'oro e per questo era riservata alle divinità e ai re il bisso era un lino speciale che contribuiva a dare l'apportamento un carattere quasi sacro dunque la ricchezza di quest'uomo è eccessiva anche perché si vita ogni giorno in modo abitudinario ogni giorno si dava all'auto i banchetti e lui si intravvete drammaticamente la corruzione del peccato che si realizza in tre momenti successivi l'amore per il denaro la vanità e la superbia dice l'apostolo Paolo che l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali essa è il principale motivo della corruzione è fonte di invidie litigi e sospetti il denaro può arrivare a dominarci così da diventare un idolo tirannico invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene ed esercitare la solidarietà con gli altri il denaro può servire noi e il mondo intero ad una logica egoistica che non lascia spazio all'amore e ostacola la pace vedete che cosa non si fa per il denaro e più si ha e più se ne vuole siamo disposti a tutti per avere il denaro e faccio un lavoro ne faccio anche un altro e mettiamo avanti la famiglia e se può lavorare mia moglie va a lavorare pure mia moglie così non sta a casa a perdere tempo vicino alla televisione per il denaro e il denaro non è quindi allora più un mezzo per vivere bene la mia vita e viverla anche in solidarietà come gesti di solidarietà per aiutare chi si trova in una situazione di bisogno la parabola ci mostra poi che la cupidice del ricco lo rende vanitoso la sua personalità si realizza nell'apparenza e nel far vedere agli altri ciò che lui può permettersi ma l'apparenza maschera e il vuoto interiore la sua vita è prigioniera dell'esteroità della dimensione più superficiale ed effimera dell'esistenza il gradino più basso di questo degrado morale è la superbia l'uomo ricco si veste come se fosse un re simula il portamento di un dio dimenticando di essere semplicemente un mortale per l'uomo corrotto dall'amore e per le ricchezze non esiste altro che il proprio io e per questo le persone che lo circondano non entrano nel suo sguardo quindi capite ci sono io non ci sono gli altri o meglio se gli altri ci sono sono per servirmi se gli altri ci sono il frutto dell'attaccamento al denaro e dunque una sorta di cecità il ricco non vede il povero affamato piagato e prostato nella sua omigliazione guardando questo personaggio si comprende perché il Vangelo sia così netto nel condannare l'amore per il denaro nessuno può servire i due padroni perché odere all'uno e amere all'altro oppure se è personale l'uno e spezzere all'altro non potete servire Dio la ricchezza attenzione qui non sta dicendo che la ricchezza è un guaio la ricchezza è un problema oppure la ricchezza è un peccato no, la ricchezza è un bene se lo usi però come bene e se non ne fai la ricchezza è il tuo idolo il tuo Dio il Vangelo del ricco e del paolo e l'azzolo ci aiuta a prepararci bene alla Pasqua che si avvicina la liturgia del Meccolidio delle Ceneri e ci invita a vivere un'esperienza simile a quella che fa il ricco in maniera molto drammatica i sacerdoti imponendo le celine sul capo ripetono le parole ricordati che se polvere e in polvere tonerai il ricco e il povere infatti muoiono entrambi e la parte principale della parabola si svolge nell'aldilà i due personaggi scoprono improvvisamente che non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portarne via quando è vera sta cosa però quando di noi se lo ricordano? dirà Giobbe nudo sono uscito dalla seno di mia madre e nudo vi ritornerò diceva Francesco che il sepolcro no il lenzuolo funebre non ha le tasche è così vera sta cosa? no però provate a pensare se poi lo viviamo se ce lo ricordiamo questo anche il nostro sguardo si apre all'aldilà dove il ricco ha un lungo dialogo con Abramo che chiama padre dimostrando di far parte del popolo di Dio attenzione questo particolare il fatto che il ricco adesso chiami Abramo col nome di padre questo particolare rende la sua vita ancora più contraddittoria perché finora non si era detto nulla della sua relazione con Dio in effetti nella sua vita non c'era posto per Dio l'unico Dio era lui stesso quindi fino al momento che godeva è fatta a ricordare chi è Dio nel momento in cui non può godere più si ricorda di Dio nel momento in cui le cose vanno bene vanno bene e io sono giovane è Dio e io sto bene in salute è Dio e tengo tutti i soldi è Dio ricordate quell'uomo che dopo che aveva accumulato disse anima mia dati alla pace stolto questa notte sarai richiesta la tua anima il problema è lì non perché tiene le ricchezze perché Dio nel suo orizzonte non c'era proprio è così anche lui però adesso si ricorda quindi lo rende ancora più contraddittorio quindi è uno diremmo noi religioso ma non un uomo di fede sei con questo Dio non ha avuto nessun rapporto nella sua vita non c'era posto per Dio l'unico Dio lui stesso solo tra i tormenti della di là il ricco riconosce Lazzaro attenzione riconosce non conosce riconosce quindi lo sapeva lo riconosce e vorrebbe che il povero alleviasse le sue sofferenze con un po' d'acqua i gesti chiesti a Lazzaro sono simili a quelli che avrebbe potuto fare il ricco e che non ha mai compiuto provate a pensare questo lo dico con tantissima anche prudenza anche con tantissima difficoltà che possiamo vivere quando noi troviamo delle persone che per la strada chiedono un passaggio persone che essere bucate una ruota persone che stanno ferme chiedono un aiuto e noi le guardiamo e a volte ce lo diciamo che faccio ce lo diciamo che fa se mi fermo e se succede qualcosa capisco lo so lo so però invertiamo la situazione se noi ci trovassimo in quella situazione sapete cosa dicevamo diremmo noi mamma mia nessuno si ferma nessuno che tenne poche pietà però se mi trovassimo in quella situazione cosa direi di chi non si ferma proviamo per un attimo chiudiamo gli occhi no proviamo a pensarci io povero io fuori a una porta di una chiesa e vedo che tutti quanti passano davanti a me di fretta per entrare in chiesa dal signore mi ignorano proprio è un solo da cattone che sta a fare la porta da chiesa a quelli dei semafori è un solo da cattone i gesti richiesti che il ricco chiede sono quelli che avrebbe potuto fare lui quindi i gesti sono quelli che noi avremmo potuto fare Abramo tuttavia gli spiega nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni Lazzaro il suo male muore in questo modo lui è consolato tu hai ricevuto nell'aldilà si ristabilisce una scelta equità e i mali della vita vengono bilanciati dal bene però ripeto è quello che ti ho fatto qui che poi ratifica di là la parabola si protrae così presenta un messaggio per tutti i cristiani adesso noi infatti il ricco che ha dei fratelli ancora in vita chiede ad Abramo di mandare Lazzaro da loro per ammonirli ma Abramo risponde hanno Mosè e i profeti ascoltino loro e di fronte all'abreazione del ricco aggiunge se non ascoltano Mosè e i profeti non saranno persuasi neanche se non suggerisce le morti in questo modo emerge il vero problema del ricco attenzione la radice dei suoi mali è non prestare ascolto alla parola di Dio non prestare ascolto alla parola di Dio questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo è ovvio se io con Dio non ho più nessun rapporto come faccio ad amarlo? diventa per me un illustre sconosciuto sì sarà un Dio creatore sarà un Dio signore ma non è il Dio padre quello che ci ha rivelato Gesù Cristo e quindi automaticamente se io non presto il perscolto alla parola di Dio quindi non ho più queste esperienze non ho più Dio automaticamente neanche più il prossimo togli Dio togli il prossimo di conseguenza e come dicevo prima togli l'orizzonte non c'è più l'orizzonte c'è solo il presente godi 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 pensa a godere capite? questo è il gioco di chi è di quello che non nominiamo che abita al piano di sotto la parola di Dio è una forza viva capace di suscitare la conversione del cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona di Dio chiudere il cuore al dono di Dio che parla come conseguenza di chiudere il cuore al dono del fratello quindi non è questione che va uno che risuscita dei morti che cambia la nostra vita Gesù non è il miracolo che cambia la nostra vita che ci fa convertire è la parola di Dio che suscita la conversione e quindi l'amore a Dio alla sua parola che lui ci rivela ci dice il suo amore di che mi dici di ritornare a lui perché mi ama e mi attende e mi invita a fratello cari padre del soio la quaresima è tempo favorito per rinnovarsi nell'incontro con Cristo e nella sua parola nei sacramenti e nei prossimi signori che nei quanti giorni da scorsi nel deserto ha vinto gli inganni del tentatore il Vangelo di domenica scorsa ci indica il cammino da seguire lo Spirito Santo ci guida a compiere un vero cammino di conversione per riscoprire il dono della parola di Dio essere purificati dal peccato che ci accega e servire Cristo presente nei fratelli bisognosi incoraggio tutti i fedeli a esprimere questo rinnovamento spirituale anche partecipando alle campagne di Quaresima che molti organismi ecclesiali in diverse parti del mondo promuovono e fa crescere la cultura dell'incontro in un'unica famiglia umana preghiamo gli uni per gli altri affinché partecipi della vittoria di Cristo sappiamo aprire le nostre porte a debole e al povero allora potremo vivere testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua e alla fine ci ha riportato all'inizio quindi apriamo il nostro cuore a Gesù Cristo che ha vinto chiaramente così aprendoci al povero e al debole potremo vivere testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua dove siamo partiti dalla Quaresima proiettandoci verso la Pasqua Francesco ringraziando il Papa che ci ha fatto questo dono di questa lettera e anche delle forti provocazioni che ci ha donato veramente ancora una volta il Papa ci ha aperto gli occhi su una realtà che da sempre era alla nostra portata ma che forse l'avevamo un poco dimenticato oppure presso un poco di vista ora io vi invito questo messaggio di ritornarci sopra in questi giorni di riprenderlo un po' in considerazione messaggio è il brano di Luca XVI oltre agli atti banni poi della saga scrittura e lasciamoci provocare per comprendere come agire per quella realtà di mondo di fratelli che sono intorno a noi grazie grazie a tutti Grazie.